scheda segnaletica di un robot quando lo scherzo non sarà più buffo un terrestre è cosciente dell'esistenza di poteri straordinari in lui ma purtroppo non è in grado di gestirli si sente un semplice mezzo attraverso il quale agiscono su di lui e chi lo circonda delle forze di cui egli ignora l'origine come tutti gli esseri umani egli cerca di essere padrone di se stesso e spera di appropriarsene un giorno affinché quei poteri diventino suoi ma deve prima imparare a servirsene si era dibattuto per tanto tempo cercando di capire se questi strani poteri fossero opera della divinità della magia o semplicemente della tecnologia aveva poi escluso la magia perché non è superstizioso e dato che la sua modestia e la gente rifiutavano categoricamente di ammettere l'esistenza di un qualsiasi rapporto tra lui e la divinità aveva eliminato anche questa eventualità pertanto si era rassegnato ad attribuire quello che gli succedeva alla tecnologia o più precisamente ai satelliti spia cerca nella sua memoria e si rende conto che ovunque egli si è trovato niente di quanto ha vissuto merita di essere conservato come ricordo non c'erano che miserie imposte entourage che lo sfuggivano luoghi da cui è fuggito ed infermi e cadaveri che ha lasciato dietro di sé pur non essendo mai stato in guerra né in un obitorio egli non ha mai dato la morte a nessuno non ha mai sotterrato né di sotterrato un cadavere come i becca morti ha le mani pulite e la coscienza tranquilla ritiene che da quando è venuto al mondo sulla sua testa sia stata posta una taglia il suo cuore messo in quarantena e il suo corpo messo all'asta nonostante ciò egli è sempre qua ma come essere umano ma come un qualsiasi prodotto di consumo messo in stock in nome di qualche obbligazionista se la consolazione di certi è di sapere che c'è da qualche parte della gente pronta a morire per loro ciò che fa la sua felicità è di sapere che ovunque ci sono persone pronte a vivere vittima di uno sporco gioco dove sono coinvolte tutte le istituzioni e gli si fa credere indirettamente e per innumerevoli volte che è in corso la valutazione della sua nomina come alto responsabile e enfatizzando le sue capacità lo si ipotizza come un potenziale riformatore si arriva al punto di illustrarlo come il salvatore della nazione o addirittura del genere umano queste falsità non lo stupiscono più ci si è abituato ma trovarsi un giorno impegnato ad esercitare una qualsiasi attività lo meraviglierebbe veramente scomodo perché essendo spiato si spia anche tutto quello che gli sta attorno se lo si lascia in vita è perché gli uni non vogliono sporcarsi le mani e gli altri non possono trasgredire le leggi e gli sa che solo contro tutti non può nulla e poiché è convinto che anche dio di fronte alla folla si fa aiutare dal tempo aspetta e aspettando si dedica a farsi crescere la barba così se loro si asciugano che crepia il più presto e con dolcezza egli spera senza speranza è cresciuto con l'evoluzione ed il progresso si è evoluto con lui si si è serviti come cavia senza il suo consenso egli ignora il perché e da quando ma più si rende conto della perdita della sua libertà e più è terrorizzato è da quando aveva percepito di essere oggetto di stretta sorveglianza da parte di satelliti che ha realizzato che essi in un primo tempo spiano le sue attività anche se non ne ha e le sue parole poi in un secondo tempo decifrano i suoi pensieri più intimi e forse dio sa se questa partita avrà anche dei tempi supplementari egli può affermare con animo sereno che non è merito suo se la tecnologia è pervenuta a leggere anche nel pensiero semmai è sulla sua pelle che ci si è arrivati quelli che hanno i satelliti non hanno avuto bisogno per servirsi di lui del suo consenso e neanche di avvisarlo perché egli non deve avere un parere su quanto è stato deciso e soprattutto non deve lamentarsi con chi si lamenterebbe del resto chi lo ascolterebbe e se lo ascoltassero chi gli darebbe ragione e se gli dessero ragione chi gli confesserebbe il chi fa cosa il perché e da quando che gli ignora tutta la gente evita di entrare in conflitto con la tecnologia nessuno si augura di avere un malinteso con i satelliti tutti sono convinti che il potere della tecnologia è terribile e che è meglio averlo dalla propria parte al prezzo di esserne schiavo piuttosto che averlo addosso alla minima imprudenza nonostante l'inquietudine che gli deriva da questa invasione costante ha conservato un rito che dà un senso alla sua vita insensata quello di non saltare mai l'ora del tè che ogni giorno si reca a prendere sulla terrazza di un caffè di fronte alla piazza pubblica in uno di questi giorni mentre sorseggia la sua bevanda alla menta bruscamente un rumore acuto eccheggia provocando un panico estremo tra la gente e gli guarda verso il luogo dove si concentrano gli sguardi e constata che si tratta di un disco volante venuto dal cielo lo strano venivolo atterra al centro della piazza pubblica una specie di robone esce si dirige verso la terrazza del caffè si ferma davanti all'unico cliente che è rimasto e comincia ad intrattenersi con lui il robot gli abitanti del pianeta da dove sono venuto interessano da secoli al pianeta terra e da quando i satelliti dei terrestri si sono interessati a te gli abitanti del nostro pianeta hanno fatto altrettanto la tua sorte ci fa pena e siamo venuti per aiutarti dandoti la scelta tra l'accompagnarci da dove siamo venuti o restare sulla terra il terrestre preferirai vedere annientati tutti i satelliti e rimanere qui il robot è come se ci stessi chiedendo di fare retromarsa nel tempo il terrestre mi sarebbe difficile vivere tra esseri che non hanno niente di umano il robot e ai tuoi simili i terrestri cosa rimane ancora di umano non trovando nessuna risposta finisce il suo tè alla menta lascia qualche moneta vicino al bicchiere si allontana dal tavolo dalla terrazza e dalla terra qualche istante dopo i mass media nel mondo intero annunciano dandone la scheda segnaletica la notizia di un robot che ha sequestrato un terrestre il seguito lo conosciamo tutti fra qualche giorno l'incidente non sarà più una notizia di prima pagina fra qualche mese sarà una fiaba fra qualche anno sarà un mito fra qualche secolo i seguaci delle prossime religioni ne prenderanno conoscenza tramite i loro libri sacri ritorno al punto zero una guida bruna conduce tre coppie di turisti una bianca una nera e una gialla appena il loro veicolo ha percorso i tre quarti di una galleria si guasta dopo aver provato in vano a rimetterlo in grado di circolare nuovamente l'abbandonano e continuano a piedi attraversata la galleria si ritrovano in un deserto cinto da un mucchio di dune di sabbia senza strada all'improvviso si alza una tempesta di sabbia si mettono gli occhiali di protezione e fanno alcuni passi cercando in vano una strada un segno di civiltà poi si fermano e si girano per ritornare da dove sono venuti ma la galleria non c'è più la tempesta è cessata e il tempo è ridivenuto calmo sorseggiata la direzione da prendere si avviano verso est orientati dalla bussola della guida dopo un po di tempo intravedono un oasi corrono lì arrivati incontrano delle persone di un altro tempo sono arabi dell'epoca dell'invenzione dello zero il dialogo tra i turisti e gli arabi si stabilisce subito i visitatori sono incuriositi della sapienza di cui si vanta fieramente questa gente fra tutta la conoscenza che esibiscono gli arabi si soffermano sul concetto dello zero e dimostrano con la massima precisione che il niente di cui non ci si accorge è proprio lo zero come esigono i costumi i turisti beneficiano del diritto dell'ospitalità il capo della tribù araba ha dato le sue istruzioni affinché gli stranieri non manchino di niente per tre giorni tutto è andato liscio fino al mattino del terzo giorno quando il capo della tribù ha previsto una partita di caccia alla quale parteciperanno i turisti la loro guida e i giovani della tribù durante questo svago il turno delle domande curiose da parte del capo della tribù e di alcuni giovani è arrivato hanno accettato con immensa difficoltà che questi visitatori abbiano viaggiato attraverso il tempo ma non hanno del tutto digerito che gli arabi in questo tempo futuro di cui parlano i loro ospiti valgano meno di questo niente da cui hanno appena estratto lo zero e che siano dei popoli che non hanno in comune che l'ignoranza la carestia il sottosviluppo il ritardo e la diseguaglianza esagerata nei beni e nei diritti la tribù furiosa vuole uccidere questi uccelli di cattivo augurio una lotta tra l'ugno e gli altri comincia quando si alza un'altra tempesta di sabbia i turisti e la loro guida mettono i loro occhiali speciali approfittano della situazione e fuggono da questi ostinati individui rimasti accartocciati nei loro posti le palpebre chiuse in attesa del passare della tempesta di sabbia dopo qualche passo i turisti si sono ritrovati di nuovo davanti alla galleria si girano tutto è svanito nel nulla la tempesta di sabbia le dune l'oasi e soprattutto gli arabi del tempo dell'invenzione dello zero si tolgono gli occhiali e ripercorrono la strada che riporta fino al loro veicolo ai tre quarti della galleria attraverso il primo da un diario di kami kaze kami è una deità antenato divinizzato spirito della natura nella religione shintoista giappone in questo racconto però kami è soltanto un cognome non necessariamente giapponese kaze è il nome di una persona qualunque di un luogo qualsiasi egli è convinto che anche da vivi coscientemente o no siamo tutti spiriti della natura kami kaze è un artista con scarso talento e perennemente disoccupato è la conferma del detto l'arte è il mestiere di chi non ne ha inoltre egli è anche un pessimo scrittore che invece di raccontare si racconta siccome tanti se ne fregano del suo vissuto tanti se ne fregano anche di ciò che scrive in seguito al caos derivato da una calamità naturale si sono salvate soltanto queste pagine del suo diario dopo traduzione interpretazione e adattamento ecco il testo integrale e incensurato del loro contenuto 30 febbraio ore 1 sono occupato a pensare a questa religione che non solo non ha previsto un'istituzione religiosa ma la persino sconsigliata se non proibita risultato vi è un popolo di sacerdoti chiunque può giudicare condannare ed eseguire la sentenza ore 3 in preda all'insonnia esco e mi dirigo verso il pozzo osservo una scena che sembra un autoritratto della società tentato da una carota appesa pochi centimetri dal suo muso un asino cammina senza sosta in cerchio cercando di raggiungerla e così facendo mette in funzione il meccanismo del bindolo che attinge dal fondo del pozzo l'acqua necessaria per il campo di carote ore 5 sono preoccupato per questa nazione misericordiosa come se fosse dio ma solo con i cattivi ore 7 torturato dal chiaro del giorno fra la fessura delle palpebre intravedo impotente un altro dipinto sociale attraverso la museruola un vitello riesce bene o male a succhiare le mammelle di sua madre già sciupate dalla mungitura mattutina ore 9 un notiziario in forma il nostro esercito ha occupato il campo di prezzemolo sito tra la nostra nazione e la nazione vicina che corrisponde anche alla linea di confine tra due continenti ore 11 secondo la borsa dei valori la sciarmula salsa indispensabile per il pesce preparato con l'aglio olio limone e aceto e soprattutto prezzemolo ha raggiunto il suo minimo storico ore 13 il notiziario annuncia questa volta le nozze del sultano plurivedovo con una ragazza i cui antenati appartengono forse a quella nazione confinante ore 15 cerco fra i miei vecchi dipinti un quadro che avevo intitolato legame intercontinentale rappresentava la fusione del territorio della nostra nazione e di quella vicina in una figura umana che aveva l'aspetto etnico di quella nazione e l'abbigliamento della nostra ore 17 le nozze del sultano si celebrano sotto lo stato di guerra situazione nella quale non è consentita alcuna forma di obiezione ore 19 ho ritrovato il quadro che cercavo lo guardo con disprezzo ore 21 il notiziario comunica la fine della cerimonia di nozze del sultano ore 23 cerco di convincermi a dormire forse il sonno mi rispermierà altri tormenti 31 febbraio ore 1 la notizia della mobilitazione militare della nazione vicina che occupa a sua volta il campo di prezzemolo scacciando il nostro esercito appena installato allontana il sonno che mi sembrava finalmente a portata di mano ore 3 eccomi nuovamente davanti al pozzo la carota in una mano e il bastone nell'altra ogni volta che il mezzadro dà un morso alla carota infligge una bastonata all'asino così l'asino cammina senza sosta in cerchio e attiva il meccanismo del bindolo che attinge dal fondo del pozzo l'acqua necessaria per il campo di carote ore 5 la radio annuncia che a conclusione della vicenda la nostra nazione rinuncia a rivendicare la propria sovranità sul campo di prezzemolo e come prova di buona volontà fa inoltre dono alla nazione vicina della sciarmula appena elaborata e del pesce delle riserve ore 7 nuovamente tormentato del chiaro del giorno riuscendo a malapena a tenere aperti gli occhi nauseato noto alla museruola sono state aggiunte spine di cactus provando a succhiare le mammelle della sua mamma già sciupate dalla mungitura mattutina il vitello punge la mucca che reagisce dandogli dei calci ore 9 sono stato avvicinato da una persona dall'aspetto distinto che mi ha offerto di fare il corriere per suo conto garantendomi il paradiso se seguirò alla lettera le sue istruzioni ore 11 secondo la borsa dei valori la sciarmula ha raggiunto il suo massimo storico ore 13 indosso il cinturone che devo consegnare e mi avvio ore 15 dovendo attraversare la manifestazione promossa in occasione della giornata mondiale contro la fame simulo di mangiare masticando senza sosta e con forza una gomma fra le macelle in ottemperanza all'invito solenne del sultano alla partecipazione massiccia all'evento ore 17 attraversando un cimitero per raggiungere il luogo della consegna sento un boato e non faccio neanche in tempo a girarmi che sono già nell'aria ore 19 in sopralluogo delle forze dell'ordine ha stabilito che ci sono legami tra l'accaduto e il terrorismo internazionale finanziato da uno stato canaglia ore 21 da dove sono mentre il notiziario divulga informazioni sull'attentato rifletto in vano per capire veramente quello che mi è accaduto ore 23 nel suo discorso il sultano associa quanto è capitato alla troppa libertà e ai troppi diritti eccetera eccetera una fiaba del nord il vestito dell'imperatore Hans Christian Andersen scrittore danese 1805 1875 narra la storia di un tempo molto lontano in un regno altrettanto lontano dove un imperatore vanitoso amava essere circondato da persone sempre pronti a darti ragione quell'imperatore sprecava il suo tempo a specchiarsi e a cambiare vestiti e gioielli da quando si alzava dal letto a quando tornava a dormire un giorno due imbroglioni giunti nell'impero si vantarono di essere in grado di creare vestiti fatti di una stoffa che non poteva essere vista che da persone intelligenti la notizia arrivò all'imperatore e gli fece chiamare i pseudosarti e offrì loro qualsiasi compenso chiedessero purché gli confezionassero un vestito con quella stoffa finito il vestito immaginario i due ciarlatani glielo fecero indossare e l'imperatore felice uscì dal castello per far condividere al popolo la bellezza di quel vestito durante la sfilata in mezzo al suo corteo sua maestà aveva addosso in realtà soltanto gli indumenti intimi ma non metteva in discussione la propria intelligenza ognuno tra il pubblico fingeva di vedere l'elegante vestito dell'imperatore un bambino non potendo resistere scoppiò a ridere urlando l'imperatore è nudo l'imperatore è nudo il dubbio cominciò ad impadronirsi della mente della gente imperatore compreso e la storia finì con la fuga degli impostori e il risveglio dell'impero adesso vi racconto una favola dal sud il sultano nella luna degli scarafaggi bianchi in un tempo non altrettanto lontano e in un impero non tanto distante furono chiamati dal sultano dei camaleonti per proteggere il suo trono dall'anarchia dei suoi sudditi passò il tempo e quel sultano morì gli eredi al trono dei camaleonti si successero uno dopo l'altro e le generazioni degli scarafaggi bianchi si diedero il cambio per proteggere in quell'impero quel trono da quella popolazione gli scarafaggi bianchi avevano instaurato al posto dell'anarchia la legge della giungla il più grande divora il più piccolo ed istituito leggi severe contro qualsiasi piccolo che si azzardasse a pestare le zampe a qualche grande soddisfatti in questi risultati l'ennesimo sultano e l'ennesima generazione degli scarafaggi bianchi studiarono un piano per la fine del protettorato siccome gli scarafaggi bianchi erano bravi a costruire e demolire eroi ogni volta che lo esigeva il proprio interesse mandarono in un esidio di lusso quel sultano camaleonte e la sua famiglia e favorirono l'emersione di tanti piccoli sultani di qua e di là in tutto l'impero giusto il tempo necessario per permettere ai camaleonti potenti di saldare i conti tra di loro fino allo sterminio o alla resa e affinché l'immagine del sultano in esilio diventasse il simbolo dell'unità dell'impero quando giunse il tempo di richiamare al trono il sultano esiliato approfittando della luna piena una voce fece il giro di tutto l'impero in un tempo record questa riferiva che il sultano esiliato era apparso nella luna tutti i camaleonti passarono la notte con il viso rivolto verso il cielo a contemplare l'immagine del loro amato sultano e tutti i bambini compresi lo videro quella sera in quella luna all'alba il sultano era tornato dall'esilio e tutti vissero felici e contenti riflessione nei due racconti sia nella fiaba che nella favola siamo davanti a menzogne presentate come verità con la forza della suggestione e della soggezione solo che mentre nella fiaba abbiamo a che fare con degli esseri umani che quando fissano un punto il loro campo visivo si concentra su quel punto nella favola siamo davanti a una popolazione di camaleonti che oltre alla facoltà di mimetizzarsi nei loro colori hanno il dono naturale di avere i movimenti degli occhi indipendenti uno dall'altro e quella sera mentre ognuno di loro fissava con un occhio quella luna con l'altro occhio controllava i vicini